Una scelta di cuore, tornare a Empoli? Sì, una scelta di cuore, decisa in pochi minuti, perché era la mia voglia di ritornare qui. Sì, ieri cinque minuti per firmare e metterci d'accordo, anche perché la mia scelta era di tornare a Empoli. Grazie Presidente per avermi accontentato e proverò di dare il massimo. Cosa ti senti di dire a si fossi del Livorno? Vabbè, alcuni vanno ringraziati perché fino all'ultimo si sono sempre comportati bene. Diciamo che la metà dei tifosi è abbastanza bene, quegli altri purtroppo non sono entrato nei loro cuori. Cosa ti senti di promettere ai tifosi empolesi? Di dare il massimo fino alla fine e speriamo di fare meglio di quest'anno. Obiettivo? L'ultimo playoff. E obiettivo personale? Di fare più gol possibile.